Istruzioni per aprire il telecomando SUB di Key Automation. Telecomando per aprire porte e cancelli. Svitare la vite nella parte posteriore del telecomando. Aprire nella parte inferiore il guscio posteriore e muoverlo su e giù, così. In questo modo il telecomando si apre. Si possono cambiare i gusci scegliendo il colore preferito. Reinserendo il metallo cromato, la scheda elettronica, la batteria sempre nella parte posteriore. Allineare nella parte inferiore i due gusci e poi chiudere i due ganci nella parte anteriore. Infine chiudere con la vite per garantire l'ermeticità del telecomando. Il telecomando è resistente all'acqua. Allineare in continuo! Grazie.